Musica Musica Ci aspettiamo le dose che hanno appunto indicato attraverso i contratti fermati, attraverso appunto la Commissione Europea, ci aspettiamo di poter iniziare con il nuovo piano di vaccinazione che abbia appunto numeri ancora più importanti per concludere in maniera rapida questa nostra pandemia nel nostro Paese. Se ci avessero consegnato tutte le dosi ci saremmo accorti della incapacità del nostro piano di vaccinazione, perché le regioni migliori, quelle che hanno fatto di più, hanno nei frigoriferi il 20-30% di dosi ancora inutilizzate. Quando arrivano il problema sarà essere pronti a vaccinare, speriamo di farci. Musica Si sta seguendo la linea che ha impostato il governo Conte oramai per più di un anno e nelle difficoltà è comunque una cosa positiva perché è l'unica strada finché non venremo vaccinati tutti per combattere la diffusione. Ma ci sarà da soffrire a marzo. L'importante è correre sulla ricerca dei vaccini, se non arrivano dall'Europa a cercarli in ogni altra parte del mondo, correre con le terapie demociliari e prepararsi a una Pasqua di resurrezione, di rinascita. Se adesso in tanti ospedali ci sono dei problemi è giusto curarsi della salute e della vita prima di tutto. Gli stessi scienziati dicono che a marzo si dovrebbe raggiungere il picco per poi tornare a una graduale normalità, quindi ragionare del dopo Pasqua secondo me è assolutamente di buon senso. Benvengano se necessarie altre restrizioni purché siano utili a rilanciare e a fare un passo in avanti nella campagna vaccinale. Il vaccino, sconfiggere la pandemia e il virus è l'unico strumento per rilanciare anche l'economia del nostro Paese. Buongiorno cari telespettatori. Allora il Comitato Tecnico Scientifico che indicazioni ha dato? Ha detto che intanto servono misure più restrittive, più severe, molto presto e soprattutto tutta l'Italia nel weekend dovrebbe essere una grande zona rossa, un po' come è successo a Natale. E contemporaneamente bisogna accelerare la vaccinazione coinvolgendo il maggior numero di persone possibili. Queste appunto le indicazioni date al governo, governo che adesso dovrà valutare e decidere, però da alcune fonti di Palazzo Chigi si esclude un lockdown, diciamo un blocco generalizzato e soprattutto lo si esclude a breve. Poi c'è tutta la partita che riguarda appunto i vaccini. Domani l'Agenzia del Farmaco Europeo dovrebbe dare il via libera al vaccino monodose di Johnson & Johnson e alla vigilia di questa decisione così importante il colosso farmaceutico fa sapere che non potrà garantire le dosi promesse, 55 milioni di dosi. Poi la Commissione Europea è sbottata giustamente e allora c'è stata una rettifica da parte della Johnson & Johnson ha detto da qui a fine anno arriveranno 200 milioni di dosi, ovviamente il numero riguarda tutta l'Europa. Abbiamo capito che il secondo trimestre di quest'anno sarà cruciale per tutti e per l'Italia in particolare. il numero che è stato fornito per quanto riguarda il nostro paese è che arriveranno quasi 40 milioni di dosi dei vari vaccini in campo. E poi c'è un'altra notizia che approfondiremo, cioè anche in Italia sarà prodotto il vaccino russo Sputnik, cosa insomma che ha suscitato già polemiche anche da parte dell'Unione Europea. Poi abbiamo visto le immagini del capo dello Stato Mattarella in fila come un comune mortale, come un cittadino qualsiasi, allo Spallanzani dove gli è stata inoculata la prima dose del vaccino moderna e anche qui ci sono molti commenti, no? Ha fatto bene il capo dello Stato, ma insomma questa è un'altra discussione, ha dato l'esempio. Bentornato Davide Giocalone. Buongiorno. Saluto e do il bentornato all'onorevole Walter Verini del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, in una battuta Verini perché mi scappa. Come sta il PD? Beh, ha bisogno di un vaccino. Ecco, grazie. No, adesso poi lo approfondiamo. È attuale la battuta di Verini. Bentornato anche all'onorevole Fabio Rampelli, fratelli d'Italia, vicepresidente della Camera. Bentornato Rampelli. Salve, bentrovati. Bentrovato. Saluto e ringrazio la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia e virologia al sacco di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Peraltro, mi pare settimanalmente la dottoressa Gismondo ha una rubrica sul Fatto Quotidiano, dedicato ovviamente ai problemi della salute e sanitari. Adesso affronteremo anche quello che ha scritto ieri, perché insomma molti esperti anche oggi esternano. Abbiamo sentito il fatto che marzo potrebbe essere il mese del picco. C'è qualcuno che dice se si arrivasse alla cifra di 30.000 contagiati al giorno ci vorrebbe un lockdown. Insomma, e via dicendo. Intanto parto con Davide Giacalone per un antipasto, poi dobbiamo andare in pubblicità. Allora, secondo te che cosa deciderà il governo? Anche perché il nuovo DPCM è in vigore da pochissimo, no? Sembra di rivivere cose già sentite e viste. Se i numeri sono quelli che si prospettano, ci sarà un'ulteriore stretta, questo è ragionevole. Sarebbe assai ragionevole che questo fosse finalizzato anche a una comunicazione. Capisco la scelta del governo più che giusta. Comunichiamo quello che siamo già riusciti a fare. Comunicare anche che la campagna vaccini prende un andamento diverso da quello che ha avuto fin qui. Noi dovremmo ricevere da qua alla fine del mese lo stesso numero di dosi, forse di più di quelle che abbiamo ricevuto da dicembre a oggi. E non è che siano state proprio tutte quante praticate immediatamente. Quel cambio di passo renderebbe più digeribile quello che comunque è un fatto certamente scomodo. Ma a proposito del cambio di passo, devo chiederti la domanda forse un po' banale, ma la domanda di sempre. Il cambio di passo vorrà dire anche mettere in riga le regioni? Ma non c'è dubbio. Cambiare completamente l'organizzazione della logistica. La logistica deve essere uguale e funzionante ovviamente ovunque. Bisogna chiamare allo sforzo di vaccinazione tutte le strutture possibili, dalla grande distribuzione organizzata che si è già dimostrata disponibile, alle imprese private che si sono già dimostrate disponibili, ai privati che vogliono metterci i quattrini per l'organizzazione. Ma ha chiamato tutto perché questo, diciamo così, darebbe l'idea che il vaccino, che è l'unica arma, a parte le cure ovviamente, che abbiamo per fermare questa stagione, che il vaccino prende la strada dell'inoculazione di massa. Fare 40 milioni di vaccinazioni in poche settimane non è una roba dove ci sono riusciti e sono state le forze armate. Ripartiamo tra pochissimo dopo la pubblicità, a proposito andiamo nel dettaglio e vediamo insomma che cos'è l'affair, la vicenda Johnson & Johnson e anche questa storia del vaccino russo Sputnik. Tra poco. Per l'Unione Europea pianificare le vaccinazioni anti-Covid è un percorso a ostacoli. Nonostante si sia impegnata con Bruxelles a fornire ben 200 milioni di dosi per il 2021, l'azienda farmaceutica statunitense Janssen, che produce il vaccino Johnson & Johnson, ha annunciato ai 27 che per problemi di approvvigionamento non riuscirà a rispettare i piani per consegnare 55 milioni di dosi entro fine giugno. Secondo quanto riferito a Reuters da fonti comunitarie, per Johnson & Johnson l'obiettivo non è comunque impossibile, ma serve cautela. Nel nostro continente stiamo raddoppiando la quantità di dosi da inviare agli Stati membri dall'inizio della campagna vaccinale. Due mesi fa ha commentato il capo della Task Force dell'Unione per la produzione dei vaccini anti-Covid, Ceri Breton. Con Johnson & Johnson mi impegnerò ufficialmente dopo l'autorizzazione dell'EMA, spero prima del weekend. Sono fiducioso che ce la faremo, anche se sarà difficile. Intanto l'azienda biofarmaceutica svizzera di Enne Pharma Biotech avrebbe firmato l'accordo, il primo in assoluto in Europa, per produrre a partire da giugno 10 milioni di dosi del russo Sputnik nel suo sito in Lombardia, a patto che l'Agenzia Italiana del Farmaco approvi il vaccino. Il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che nessuno l'ha informato dell'accordo tra il fondo russo RDIF, che commercializza lo Sputnik, e ADN. Secondo fonti comunitarie, questa intesa per la produzione del vaccino russo in Italia è irrilevante, sia per la strategia europea che per il nostro paese. Perché, spiegano, da un lato dimostra che Mosca non è in grado di produrre vaccini per il suo mercato interno, dall'altro, prima che il vaccino russo sia disponibile per la popolazione europea, passeranno mesi e forse si arriverà a fine anno, quando l'Unione avrà comunque raggiunto una capacità produttiva tra i 2 e i 3 miliardi di dosi l'anno. L'Agenzia Europea per i Medicinali, nel frattempo, fa sapere di aver iniziato l'analisi sugli standard di efficacia, sicurezza e qualità dello Sputnik, il primissimo passo per una futura approvazione del vaccino nell'Unione Europea. Allora, devo andare subito da Maria Rita Gismondo. Cito tre titoli di esperti. Ilaria Capua, il vaccino Covid fa miracoli, ma bisogna stare fermi almeno due mesi. Andrea Crisanti, con oltre 30.000 casi al giorno, bisognerà chiudere. Fabrizio Pregliasco, terza onnata, con picco di contagi, anche 40.000 al giorno, sia a restrizioni e coprifuoco anticipato. Allora, le chiedo, ma siamo troppo lenti? Questo virus ci spiazza, come ha scritto lei ieri sul fatto? Ma, guardi, io credo che bisogna fare delle considerazioni. Il nostro obiettivo è quello di eliminare il virus. Allora, se eliminare il virus, non lo stiamo facendo con chiusure e aperture. E ovviamente, teoricamente, sarebbe bisogno a livello globale, ma è impossibile, dei lockdown così lunghi da eliminare il contagio. Stiamo facendo qualcosa che ci aiuti, soprattutto, a mantenere bassa la pressione sui ricoveri in terapia intensiva. È questo che facciamo con questi lockdown limitati. E se questo è l'obiettivo, è ovvio che se chiudiamo, avremo meno ricoveri e, grazie al cielo, anche meno decessi. Ma noi dobbiamo affrontare anche un altro problema, che non possiamo andare avanti, come è stato detto, fra l'altro, su una rivista di notevole impatto scientifico, su Nature, che andando avanti così, ci vorranno 10-20 anni perché questo virus possa convivere in maniera, diciamo, silente o comunque senza dar danni. Noi dobbiamo cercare di eliminare il virus. Qual è l'arma che abbiamo? I vaccini. Abbiamo fatto degli errori evitabili e degli errori inevitabili. Innanzitutto è ridicolo che le aziende a contratti firmati dicano non sappiamo se abbiamo abbastanza materia prima, non sappiamo se ce la facciamo. Allora, anche una persona che non fa industria, come posso essere io e i miei colleghi, sa che quando un'azienda decide di produrre qualcosa, ha già assicurata la filiera che c'è prima, cioè sa quanto tempo ci vuole, sa quanta materia prima potrà avere. Quindi questi proclami di milioni di dosi che arrivano e poi, scusate, non mi raccorta che mi mancava il burro in frigorifero, sono assolutamente ridicoli. Sono, secondo me, la voglia di accaparrarsi il mercato e di mantenerlo con queste altalene che non dobbiamo permettere perché quello che è promesso deve arregare. E se quello che è promesso non ci assicura una vaccinazione di massa, ci dobbiamo organizzare perché questo abbia il minore impatto negativo possibile. Chiarissimo. Scusi, quando lei dice ci dobbiamo organizzare, lo sputnik lo dobbiamo utilizzare anche se non ha l'autorizzazione europea? Tanto per fare un esempio. Guardi, noi siamo in una condizione tale che è meglio rischiare, e questo lo dico malgrado mie posizioni di tempo fa, è meglio rischiare qualche effetto collaterale che non 400 morti al giorno. Allora, lo sputnik deve essere assolutamente valutato, ma se l'EMA è lenta nei confronti dello sputnik che non ha la stessa velocità che sta avendo con altri vaccini, affidiamoci all'AIFA. Io preferirei che fosse l'EMA a certificare tutto, ma allora facciamo pressioni perché possa verificare i dati che sono stati consegnati per lo sputnik, ma così come altri vaccini che sono lì in corsa e in arrivo. Chiarissima. Verini, due dati. In Gran Bretagna il tasso di prime inoculazioni è del 34%, negli Stati Uniti del 27%, in Europa non arriva al 10%. In questi numeri però c'è tutta, non voglio usare la parola fallimento, ma quasi dell'Europa. Certamente l'Europa ha subito qualche smacco, a partire da quello che la dottoressa Gismondo ricordava, cioè le inadempienze del Big Pharma. Questo però purtroppo si chiama anche una sorta di deregulation nel mercato globale. Non ci sono al mondo delle autorità in grado di regolare il mercato anche dal punto di vista sociale, non soltanto dal punto di vista dei profitti. E questo provoca naturalmente anche queste questioni. Detto questo, io non penso che ogni paese debba fare da solo. Io penso che comunque si debba, e come si sta facendo, lavorare per rafforzare il peso e la capacità di contrattazione dell'Europa, dentro la quale ogni paese in maniera coordinata gestisce la propria attività, i propri piani vaccinali. Altrimenti, per esempio, un paese come l'Italia sarebbe certamente più debole in questa ipotetica competizione del fai-da-te nazionale. Quindi è necessario che noi si lavori in questa direzione, in più direzioni, anche con alcuni atti importanti, significativi, che per esempio il nostro governo ha compiuto in questi giorni, come quello di bloccare le esportazioni di una multinazionale che come è noto ha avuto le sue inadempienze. Quindi io penso che si debba lavorare su questo, senza pregiudizi. Sulla questione Sputnik, io ovviamente non sono un esperto ed è necessario, come dire, per parafrasare la celebre frase di Mario Draghi, che a ogni costo si faccia qualcosa, però dentro questo quadro di cooperazione europea. Io però penso che giustamente un'autorità come lei, ma che non è la spectre, è un'autorità autorevole, un'autorità indipendente, scientificamente attendibile e naturalmente poi anche le autorità nazionali come l'AIFA, debbono al più presto testare la validità, certificarla. Ricordo che la documentazione da parte delle autorità che rappresentano lo Sputnik alle agenzie è pervenuta qualche giorno fa. Voglio dire, non credo che ci debbano essere timori nel poter valutare scientificamente la validità di questo prodotto verso il quale non è giusto avere pregiudizi. Adesso poi ci torniamo su tutto l'Effair Sputnik, perché ci collegheremo con Mattia Bagnoli che è il corrispondente dell'Ansa in Russia e ha seguito molto da vicino tutta questa vicenda. Rampelli, allora, se lei fosse il Ministro della Salute o addirittura il Premier, che farebbe con lo Sputnik? Intanto vale il principio che abbiamo bisogno dei vaccini per sconfiggere il virus e quindi il vaccino va preso ovunque sia collocato, qualunque sia la nazione o la casa farmaceutica che lo produce, fermo restando i controlli. Io non è che sia contrario ai controlli, chi è che potrebbe esserlo? Però mi pare che questi controlli stiano mettendo in evidenza una sorta di atavica debolezza da parte dell'Europa quando l'abbiamo chiamata eurocrazia, cioè un'Europa dirigista, burocratica, dove non si capisce niente, ci sono mille passaggi farraginosi. Io penso che questa realtà, la triste realtà di questi giorni, testimoni la bontà, ahimè, la giustezza di quelle osservazioni. A noi piacerebbe che ci fosse un'Europa un po' più dinamica e anche questo penso che sia una banalità, solo che quando lo dicevamo eravamo accusati di essere dei sovranisti pericolosissimi che volevano comunque collocare l'Italia fuori dall'Europa, cosa mai detta e che non è sicuramente auspicabile da parte nostra e invece oggi ci dobbiamo arrendere all'evidenza. L'Europa va riformata e rifondata. Detto questo, che cosa farei? Intanto che cosa avrei fatto? Perché la cosa che francamente mi lascia molto, molto perplesso è che si continua a ragionare su ciò che abbiamo di fronte nell'immediatezza è come se avessimo perduto una capacità di programmazione che era rinomata da parte della nostra gente insomma nelle varie epoche storiche noi siamo stati comunque capaci di una grande cultura organizzativa e di una grande capacità programmatoria. Adesso parliamo sempre e soltanto di quello che serve per domani mattina. Probabilmente se io avessi avuto un ruolo di responsabilità nei mesi precedenti per esempio mi sarei preoccupato di rendere possibile la produzione del vaccino una volta arrivato perché si sapeva che presto o tardi la ricerca avrebbe condotto alla nascita di un vaccino efficace per sconfiggere il coronavirus avrei messo la nostra industria farmaceutica immediatamente pur in assenza di un vaccino nelle condizioni di produrre il vaccino per il bene dell'Italia per il bene dell'Europa per il bene del mondo perché non è che il vaccino se uno ce l'ha se lo tiene è ovvio che in una comunità solidale internazionale chi ha capacità produttiva poi deve essere tra virgolette generoso oltretutto è anche conveniente perché il vaccino immagino che si venda e quindi comunque chi ne ha la capacità produttiva ne ricava anche ahimè un vantaggio mi dice una cosa Rampelli scusi visto che voi siete fieramente all'opposizione ma ovviamente come tutti ti fate perché la vaccinazione di massa avvenga nel minor tempo possibile quando Speranza l'altro giorno ha detto noi contiamo entro l'estate di vaccinare praticamente tutti gli italiani che lo vorranno si fida non si fida crede che questo potrà avvenire o no? Guardi la fiducia diciamo che in questo momento un po' è in crisi dal nostro punto di vista speriamo visto che si chiama Speranza il Ministro della Salute mi prendo questa licenza che le sue parole possano essere corroborate dalla realtà dei fatti insomma certo detto oggi non sembra molto verosimile questo tipo di scenario però noi dobbiamo sicuramente accelerare i tempi e mettere nelle condizioni almeno il 70% della popolazione italiana senza forzare gli scettici insomma speriamo che si convincano da soli però noi basterebbe per raggiungere l'immunità di gregge arrivare a vaccinare il 70% come è noto della popolazione italiana se riuscissimo a farlo entro l'estate sarebbe davvero da fare una grande festa tutti quanti insieme non ci sono dubbi da questi diktat allora adesso devo tornare anche da Maria Rita Gismondo c'è la pubblicità volevi dire qualcosa Davide? no perché come mai esiste l'EMA ed esiste anche l'AIFA cioè un'autorità italiana ogni paese ha la propria autorità regolatoria in Texas c'è non c'è cioè noi continuiamo a chiedere alle istituzioni europee di fare velocemente quello che gli stati nazionali le impediscono di fare perché questa è la ragione per cui ci mettono 20 giorni in più rispetto all'FDA statunitense è solo e esclusivamente questa detto ciò è inutile che facciamo finta di non sapere che il nostro grosso problema è la logistica della vaccinazione in Italia come in Francia come in Germania non quello del numero dei dosi che naturalmente deve essere di più il cosiddetto ultimo miglio è stato definito dal nuovo commissario straordinario allora facciamo così qualche minuto di pubblicità torniamo e vi facciamo vedere un'altra cosa perché la cosiddetta variante inglese e magari non solo la variante inglese ce lo dirà la professoressa Gismondo diciamo che attecchisce e contagia anche rispetto al passato giovani e giovanissimi vi portiamo in Liguria dove pensate la fascia di età più colpita dal covid è quella tra i 5 e i 19 anni lo vediamo dopo la pubblicità il reparto covid dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova non fa registrare grosse differenze di ricoverati rispetto alla prima ondata di covid ci fa notare il primario di infettivologia che per motivi di sicurezza incontriamo fuori dal padiglione a preoccupare però è il costante aumento di giovani positivi a volte anche asintomatici un numero in costante ascesa rispetto ai mesi scorsi i casi positivi sono aumentati verosimilmente per l'arrivo della variante inglese perché sicuramente è più contagiosa e quindi tende a essere più diffusa anche a livello pediatrico direi che in generale ci possiamo aspettare che le varianti possano creare dei problemi non necessariamente perché magari si diffondono di più non è necessario che siano più aggressive in termini clinici basta che infettino più persone perché se io ho una percentuale chiamiamola più o meno costante di soggetti che si ammalano se aumento il numero assoluto dei soggetti contagiati mi aumenta il numero assoluto dei soggetti ammalati che non vuol dire un aumento dei bambini ricoverati sono due aspetti che per noi in questo momento divergono ma fare paura ora sono anche i più piccoli che possono essere forte vettore di contagio ricordiamoci che possono essere contagiosi altamente contagiosi e quindi tutta la parte dell'affetto verso i nonni eccetera va comunque frenato nel caos più totale che riguarda le fasce di popolazione da vaccinare per ora sono esclusi i bambini e i ragazzi ma potrebbe essere utile il vaccino anche per gli under 16? in termini generali sì è chiaro che in una situazione come quella attuale in cui hai persone che muoiono di una certa età e devi andare prima su chi muore tolto questo apriamo un dibattito su chi bisogna vaccinare prima il più piccolo perché è un diffusore o il professore perché deve tenere la scuola aperta e se febbre e polmoniti sono più rari rispetto agli adulti l'infezione tra i più giovani si mostra spesso con altri sintomi incontrato il coronavirus si sviluppano delle reazioni di difesa come si manifesta normalmente di fronte a qualunque infezione virale in soggetti che hanno questa particolare predisposizione genetica la reazione immunitaria anomala causa fenomeni infiammatori potenzialmente seri che si manifestano con un quadro clinico che somiglia a quello della malattia di Kawasaki l'altra complicanza seria di questa sindrome infiammatoria multisistemica è l'interessamento del muscolo cardiaco questi bambini vanno in conto ad una miocardite quindi a una sofferenza anche importante del muscolo cardiaco che può portare ad un'insufficienza del cuore all'ospedale Gaslini di Genova da mesi si monitorano con attenzione i piccoli pazienti e un dato in particolare ha messo in allarme i sanitari l'aumento di accessi al pronto soccorso per lesioni ai piedi o alle mani apparentemente simili ai geloni oltre ad un incremento del 30% dei ricoveri per disturbi psichici tra gli adolescenti allora tra un secondo torniamo alla vicenda Sputnik però devo chiedere subito a Marireta Gismondo una battuta a proposito di bimbi piccoli di adolescenti colpiti dal covid il che ovviamente ha fatto scattare l'allarme anche nuovamente sulle scuole dobbiamo preoccuparci e soprattutto non sarebbe il caso anche di vaccinare nei più piccoli se avessimo sufficienti vaccini per carità tutti ma mi lasci dire che la mia preoccupazione è più che le scuole stiano chiuse che non aperte perché a scuola i ragazzi sono molto più controllati stanno a distanza con le mascherine chiunque di noi è andato in questi giorni in strada per andare a lavorare a fare le proprie cose ha visto come ci sono veramente gruppi di ragazzi che vanno ai centri commerciali che si riuniscono nelle piazze che stanno con mascherina o non allora il problema non è che tra di loro si passino il virus perché abbiamo visto che grazie al cielo sono esenti dalle malattie gravi ovviamente sto parlando di un ragazzo in apparente buona salute perché sono dei fragili il problema è quando il ragazzo va a casa e sta col nonno oppure il problema è la mamma che va a lavorare che ha saputo due ore prima che sarebbe stata chiusa la scuola e che prende i bambini e li lascia dai nonni perché non possono fare la dad a 7 anni 9 anni 10 anni i cassoli allora se noi riuscissimo ad avere purtroppo e lo dico da nonna un isolamento tra i nipoti e gli anziani tra i bambini giovani ed eventuali pazienti critici malati fragili ecco che il virus circoli fra i giovani forse mi lasci fare una battuta esagerata e quasi che ce li vaccinasse senza impiegare vaccini perché questi ragazzi si immunizzano senza sintomi il problema appunto non sono loro ma quello che poi veicolano dentro le famiglie chiarissimo allora a proposito di quello che è stato trattato come il giallo dello Sputnik vado subito da Mattia Bagnoli che saluto e ringrazio corrispondente Russia dell'ANSA buongiorno Mattia buongiorno allora qual è il giallo tu te sei occupato per l'agenzia per cui lavori abbiamo parlato non so se hai sentito le battute iniziali abbiamo detto di questo vaccino abbiamo detto del fatto che c'è un accordo per produrlo in Italia però quello che sappiamo è che per esempio non è mai arrivata all'agenzia europea Emo una richiesta di approvazione o no? No l'agenzia europea in questo momento ha aperto la rolling review per l'approvazione del vaccino l'ha aperto ufficialmente settimana scorsa e quindi è in fase di approvazione continua quindi poi una volta che si chiude la rolling review bisognerà passare alla fase di richiesta per la commercializzazione il giallo che è intorno a questo rapporto fra Europa e Russia diciamo origina a dicembre quando la Russia attraverso il Russian Direct Investment Fund che si occupa della commercializzazione all'estero dello Sputnik ha fatto ufficialmente richiesta per la scientific review all'EMA il processo di approvazione dell'EMA è articolato è complesso ed è fatto di svariate fasi quello che è emerso è che c'è stata una scarsa comprensione da parte dei russi di come si articolava questo processo nel mentre a un certo punto vi sono state delle accuse reciproche da parte politica in Europa attraverso la Commissione Europea e ovviamente di mia risposta da parte russa perché questa questa domanda fondamentalmente si era un po' persa nei meandri della burocrazia europea in parte anche per punto per poca conoscenza da parte dei russi di come funzionava il processo quando questa cosa è stata raddrizzata a questo punto tutto è andato secondo secondo gli schemi normali sta di fatto che la Russia da questo punto di vista sicuramente ha come dire calcato un po' la mano dal punto di vista narrativo perché per loro la richiesta iniziava come dire abbiamo fatto richiesta di approvazione a dicembre perché l'Europa ci mette così tanto ma l'EMA ha detto no voi non avete fatto richiesta la richiesta inizia con la rolling review cioè tutti i piccoli dettagli che però non sono irrilevanti ti volevo fare un altro paio di domande la prima è ma è vero che in Russia c'è una fetta molto piccola di popolazione vaccinata e che la Russia è più interessata a esportare questo vaccino piuttosto che usarlo in casa? Allora la Russia al momento gli ultimi dati ufficiali che abbiamo sono 5 milioni di vaccinati con la prima dose e 2 milioni e mezzo di vaccinati con la seconda dose parlo dello Sputnik e questo chiaramente è un dato tutto sommato limitato se si pensa che la Russia ha 146 milioni di abitanti che appunto ha annunciato per prima il suo vaccino c'è anche da dire che la Russia si parla solo dello Sputnik ma la Russia ha già registrato in casa altri 2 vaccini e ne ha altri 3 allo studio in tutto sono quindi 6 diciamo i vaccini contro il coronavirus nella pipeline uno tra l'altro molto interessante perché andrà a colpire diciamo l'immunizzazione a livello cellulare le T-cells quindi garantendo un'immunizzazione di tipo più lungo un periodo più lungo rispetto a quella dei vaccini che operano al momento che hanno sembra una copertura diciamo a livello stagionale o comunque di 1-2 anni non lo sappiamo perché in realtà gli studi sono incompleti dappertutto perché è una malattia nuova quindi in realtà diciamo che la Russia da questo punto di vista è un po' indietro e giustamente ci si domanda ma come mai allora se la Russia è indietro punta così tanto in generale al suo vaccino la risposta ce l'abbiamo su due livelli uno la Russia ha sviluppato il suo vaccino ma non aveva fino adesso grandi capacità produttive cioè non aveva il know-how dell'Occidente per produrre dosi a livello massiccio e massivo e tra l'altro il vaccino è stato sviluppato dal centro Gamaleia statale in collaborazione con altre articolazioni statali cioè non c'è dietro un enorme colosso farmaceutico che ha la possibilità di produrre ecco dicendo questo proprio questo mi porta all'Italia ci porta all'Italia perché vogliono produrlo anche nel nostro paese lo stabilimento in Lombardia in Brianza che è dell'azienda ADN Pharma Biotech che credo sia Svizzera ha degli stabilimenti anche in Italia su un accordo tra la Camera di Commercio Italo-Russa e chi? E' sempre l'RDIF che è il fondo sovrano russo che si occupa della commercializzazione all'estero fanno da tramite appunto non avendo una cioè vuol dire AstraZeneca sappiamo cos'è cioè dietro Oxford AstraZeneca produce BioNTech ha sviluppato il vaccino lo produce e lo commercializza Pfizer la Russia è diversa da questo punto di vista sta operando in maniera diversa quindi ha bisogno anche di avere come dire una rete di produttori esteri che sta costruendo c'è la Sud Corea c'è l'India c'è il Brasile produttori che sviluppano la formula del vaccino Sputnik e poi la commercializzano in loco o penso addirittura c'è la possibilità di esportazione terza verso altri paesi allora la Russia da questo punto di vista non fa nient'altro che quello che stanno facendo anche altri paesi o aziende occidentali cioè si è prodotto un vaccino cerca di commercializzarlo e cerca di venderlo nel mondo o comunque offrirlo al mondo da questo punto di vista lo Sputnik e poi concludo ha dei vantaggi perché è un prodotto è un vaccino costruito su una piattaforma molto conosciuta a denovirare stessa cosa che ha fatto AstraZeneca l'unica differenza è che lo Sputnik ha due virus adenovirali per aumentare la risposta immunitaria e è stato costruito con l'idea dell'esportazione verso paesi non ricchi questo Dimitri è stato molto chiaro lo Sputnik costa circa 10 dollari a dose si trasporta tra i 2 e gli 8 garadi e quindi è un vaccino costruito per diciamo così i paesi non ricchi mentre invece lui l'ha detto chiaramente non avremmo mai sviluppato un vaccino che si deve conservare a meno 70 gradi perché sappiamo che il mondo non se lo può permettere e anche questa è una strategia grazie tutto ben informato Mattia Bagnoli grazie facciamo così adesso ci torniamo resta con noi se puoi vado velocissimo però Paolo ti chiedo proprio un punto anche perché è tornato il sole su gran parte d'Italia quindi siamo tutti felici lo sapevo allora vediamo se dura questo sole per il momento vedete al nord al centro molte schiarite questa mattina ancora qualche pioggia in Sardegna e al sud però piano piano si stanno smontando infatti guardate che differenza fra le piogge previste nella prima parte della giornata di oggi quindi teoricamente fino alle 13 che prendevano la Sardegna prendevano il sud anche con fenomeni moderati e le piogge previste nella seconda parte della giornata scompaiono quelle in Sardegna si riducono molto anche al sud quindi arrivano le schiarite anche al sud con qualche debole pioggia fra Sicilia settentrionale e Calabria domani queste piogge al sud scompaiono ma ricompaiono un po' di nuvole al centro un po' di nuvole al nord con qualche pioggia fra Liguria e Alta Toscana la giornata successiva e quindi venerdì diciamo che ci sono delle piogge Appennino Tosco Emiliano Alta Toscana Liguria piogge forti localmente sul Friuli deboli o moderate al centro e al sud un po' sul versante tirrenico quindi non è che sia tornato tutto questo sole un pochino ce lo fa ce lo fa vedere però io lo dico sempre marzo è lungo sono contento che mi abbia smentito io vedi sono sempre verso il bicchiere mezzo pieno grazie Paolo sotto corona qualche minuto di pubblicità e torniamo dobbiamo chiudere la questione vaccini e Sputnik e poi forse lo dico pensando a Verini dire due cose sul Partito Democratico che vive grandi tormenti e si prepara all'Assemblea Nazionale e quindi alla scelta del nuovo segretario domenica prossima tra poco allora facciamo così prima di salutare voglio sentire la professoressa Gismondo rispetto a quello che abbiamo sentito da Mattia Bagnoli Sputnik diciamo queste notizie che effetto le fanno ma guardi purtroppo la politica entra dappertutto anche nella salute e nei vaccini quindi non faccio considerazione di questo genere che l'EMA sia anche da guida verso chi ha qualche difetto nel presentare le domande perché la necessità è avere documentazione idonea per essere sicuri ma vaccinarci al più presto e due raccomandazioni noi parliamo di vaccinazioni come se fosse un fatto condominiale europeo o occidentale non illudiamoci che vaccinando solo l'Occidente si risolva il problema è la prima volta che il problema è veramente globale dobbiamo cercare di risolvere già da adesso e quindi anticipare cosa che non è stato fatto prima la soluzione dei due problemi come far avere i vaccini ai paesi poveri perché se no il virus lo buttiamo fuori dalla finestra ma ci rientra e dall'altro lato ricordiamoci che i vaccini che stiamo utilizzando ci immunizzano probabilmente perché ovviamente il tempo non è passato per 7-8 mesi e allora cosa faremo dopo 7-8 mesi? diremo ancora che non c'è produzione ecco è un'economia è una strategia che non è un gioco da ragazzi ma dobbiamo affrontare grazie grazie preziosa pure quest'ultima riflessione di Maria Rita Gismondo che lascio al suo lavoro e ringrazio come ringrazio grazie Mattia Bagnoli questo mi fa pensare torno un attimo da Fabio Rampelli mi fa pensare al fatto che appunto Giorgetti per esempio il ministro allo sviluppo economico sta lavorando molto con le case farmaceutiche perché appunto comincia una produzione di vaccini anche in Italia i tempi ormai li conosciamo non prima della fine dell'anno inizio del 2022 però è molto importante che ci si attrezzi perché appunto forse avremo bisogno dei richiami avremo bisogno tutti gli anni di vaccinarci contro covid o similari eh Rampelli sì io ringrazio Giorgetti perché mi sembra che abbia fatto una cosa saggia e lungimirante fermo restando che invece non ringrazio il governo Conte 1 e nemmeno il governo Conte 2 perché comunque non siamo riusciti a prevenire alcune situazioni che poi sono defagrate nel marzo scorso febbraio marzo scorso e ci siamo trovati ci troviamo nella condizione data io penso però che ci sia anche diciamo così un aspetto che dobbiamo poter cogliere l'uomo fino a oggi si è ritenuto quasi invincibile tant'è che qualcuno ha pensato che ci fosse un passaggio dall'uomo economicus all'uomo deus l'uomo non è invincibile questo virus ci rimette con i piedi per terra però ci costringe io lo voglio dire una volta ancora ci costringe a pensare al futuro non possiamo vivere alla giornata pensare al futuro significa faccio l'esempio noi quando abbiamo saccheggiato il pianeta da un punto di vista ambientale lo abbiamo fatto per decenni lo abbiamo fatto forse per un secolo e passa dopodiché ci troviamo oggi con i ministeri della transizione ecologica e magari non prevediamo come si possa aiutare il ciclo per esempio dell'energia investiamo sul fotovoltaico ma non si sa che fine faranno le decine di milioni di pannelli fotovoltaici che siamo inventati o le batterie elettriche e più o meno noi ci troviamo in queste circostanze ovunque nel virus noi dobbiamo pensare che comunque i virus ci accompagneranno e dobbiamo cercare di offrire grande concentrazione e investimenti sul campo appunto della prevenzione dovremmo magari anche cercare di gestire meglio nella globalizzazione i rapporti con quei paesi Cina in testa che hanno abitudini sanitarie igieniche alimentari totalmente difformi dalle nostre perché sappiamo che comunque le pandemie hanno una loro origine quindi dobbiamo cercare di essere un po' sistematici e dobbiamo evitare di rincorrere sempre le emergenze infine ultima battuta la voglio fare per forza mi consenta io non sono convinto che questa ipotesi delle chiusure debba riprendere vigore sia l'unica modalità per contrastare la diffusione della pandemia io ancora sto aspettando che i governi ci mettano le condizioni per esempio di depotenziare gli assembramenti e mi riferisco particolarmente al trasporto pubblico mentre condivido quello che diceva la dottoressa Gismondo sulle scuole le scuole sono ambienti sani che possiamo rendere ancora più sani una volta concluse le vaccinazioni per gli insegnanti e fatte però le sanificazioni che non vengono fatte nelle scuole però almeno lì c'è certamente l'uso della mascherina da parte dei ragazzi certamente il distanziamento fisico ma i mezzi di trasporto pubblico sono o non sono un luogo di assembramento perché non si prende l'iniziativa perché da questo punto di vista non si prende l'iniziativa è lì che va colpito non sono i ristoranti a cui va impedito di offrire la cena la sera in lume non sono le palestre e le piscine il problema non sono le scuole non sono le classi il tema è che chi ha una responsabilità pubblica deve aggredire i luoghi dell'assembramento mentre questi luoghi dell'assembramento sono in questo momento liberi ancora oggi liberi di diffondere il virus allora dico dico questo faccio una piccola sottolineatura su questo credo che abbia molte ragioni Fabio Rampelli poi c'è anche un discorso di comportamenti e responsabilità individuale perché se è vero che sui trasporti è stato fatto poco se tutto quello che gravita intorno al movimento degli studenti è fatto poco e beh poi ci sono anche i comportamenti individuali come dire di autoassembramento non so se dirla così facciamo una cosa però fatemi chiedere a Verini perché abbiamo pochi minuti una cosa che riguarda il suo partito lo dico guardando Giacalone perché guardo lo sfondo che c'ha dietro Verini mi pare il simbolo del PD e chiedo a Giacalone se anche tu dietro quello sfondo cominci a intravedere il volto di Enrico Letta è lì è là dietro o no? No no non sono non sono esperto di visioni no diceva prima l'onorevole Verini che il come una battuta che il PD ha bisogno del vaccino qualcuno scusami la battuta qualcuno direbbe vista la tradizione quello Sputini dovrebbero usare quello Sputini no quello Sputini che ha cambiato colore adesso diciamo prima era Peppone che era innamorato lo Sputini adesso siamo tornati a quelli che erano i vecchi innamorati della Russia cioè i nazionalisti ma questo è un altro discorso il problema è che il vaccino funziona se conosci la malattia loro hanno un dibattito che va rispettato tutti i dibattiti democratici vanno rispettati profondamente però il dibattito su chi parla a nome del partito non sembra essere la cosa più interessante la cosa più interessante è ma che dice cioè che dice il partito a parte chi lo dice ma cosa dice cioè qual è la linea perché sono essere passati dall'unica strategia e l'accordo con il Movimento 5 Stelle e con Conte che è l'equilibrio e il rinnovamento anche della sinistra a siamo tutti con Draghi vedrai che la ripresa funzionerà beh insomma il vuoto d'aria è notevole sentiamo Verini va come replica intanto io penso che nel mondo quindi anche in Italia ci siano usiamo per capirci una destra e una sinistra per esempio prima io ascoltavo Rampelli ecco per fortuna oggi non c'è Trump che negava gli impegni per i cambiamenti climatici spesso la destra ha preso in giro Greta Thunberg per dire ma al di là di alcuni suoi concetti che possono essere condivisi però bisogna radicalmente mutare condizioni di sviluppo condizioni di vita c'è differenza anche su questo tra destra e sinistra c'è da dire una cosa e qui ha ragione anche chi chiede alla sinistra e quindi al Partito Democratico in Italia ma insomma perché esiste il PD la nostra voce su certe questioni nonostante uno sforzo importante che ha fatto il segretario Zingaretti in questi anni per ridare identità al PD beh è evidente che oggi la voce che più su certe questioni pur nel rispetto naturalmente del suo altissimo magistero è quella di Papa Bergoglio su questi temi e quindi da questo punto di vista c'è bisogno di una sinistra moderna di una sinistra che pensi e che pensi a un nuovo modo di vivere a un nuovo modo di produrre fondato anche sulla giustizia sociale il PD è questo poi voi mi chiedete ma chi farete il segretario io dico questo dico no io le faccio posto Scusi Verini adesso arriviamo al segretario dei nomi chiedo scusa perché mi pareva che mi accelera il PD ha bisogno glielo faccio dire però mi verrebbe da farle una battuta prima prima di sapere la battuta è questa se un segretario il segretario di missionario Zingaretti va via dicendo mi vergogno di questo partito e allora poi come gli elettori perché gli elettori dovrebbero votarlo questo partito questa è la domanda che le faccio però mi scusi lei ha citato solo un pezzo dell'espressione forte dura di Zingaretti Zingaretti non ha detto che si vergogna del partito democratico non ha affatto detto questo Zingaretti ha detto mi vergogno di un partito che pensa solo ai posti questo ha usato il termine poltrone da questo punto di vista voleva dire che un partito che guarda solo tra virgolette al potere come fine e non come mezzo per migliorare la vita delle persone noi abbiamo tanti sindaci tanti amministratori che stanno in trincea dalla mattina alla sera specialmente come altri di altri partiti evidentemente sul tema della pandemia e delle ricadute sociali della pandemia bene abbiamo tanti amministratori regionali abbiamo tanti parlamentari di tutte le fedi religiose e nel mio partito anche dico che fanno bene il proprio lavoro ma questo non toglie che spesso il PD si caratterizza per uno scontro interno per un correntismo esasperato non su come lavorare meglio per l'ambiente su come lavorare meglio per il lavoro per le imprese per le fasce più deboli no ma semplicemente per occupare tra virgolette i posti ecco questa cosa è dannosa è un virus il correntismo non il pluralismo culturale da cui dobbiamo essere vaccinati per questo facevo la battuta per parlare dell'Italia dei suoi problemi e non di noi stessi io vedo nelle dimissioni di Zingaretti una sferzata in questo senso e mi auguro che il PD che deve superare al più presto da domenica questa crisi di leadership però possa aprire una discussione per tornare a essere quello per cui era nato cioè un partito che pensa al paese sul finale mi dice Letta potrebbe essere il nome che diciamo in qualche modo può ricompattare unire le diverse correnti o no dal suo punto di vista ma guardi chiunque sarà eletto segretario è certamente quella di Enrico Letta è una candidatura non autorevole di più autorevolissima sotto molti punti di vista non dovrà secondo me rassicurare le correnti interne dovrà rassicurare il paese dovrà rassicurare l'Italia l'elettorato di centro-sinistra che vuole un partito democratico meno autocentrato su se stesso e più proiettato ogni giorno a ricostruire le ragioni sociali culturali della sua presenza nei comuni nelle regioni in Parlamento ma soprattutto dove vive vive soffre produce inventa la gente la gente normale chiaro Davide vuoi fare una chiusura rispetto a questo per carità è un dibattito aperto è talmente aperto che l'ipotesi è l'ex vice segretario del partito democratico che era capo del governo vice segretario quando Bersani era segretario che era presidente del consiglio e che perse queste caratteristiche queste posizioni perché il segretario del partito democratico gliele tolse salvo poi il segretario del partito democratico uscire dal partito democratico temo che non sia un problema esclusivamente di nomi dovranno anche approfondire il perché tutto questo è successo e quali politiche sono mancate non è che puoi rimettere insieme i concetti torniamo a letta e non ci ricrescono i capelli perché insomma diciamo così come dimostra la foto chiarissimo chiudiamo dando due notizie anche la Spagna si candida a produrre lo Sputnik oltre che l'Italia come abbiamo ampiamente detto e poi la vera notizia cioè notizia che possiamo immaginare vi arriva dall'Istat perché a causa del covid sono state è stato annullato completamente sia al nord che in altre aree del paese il guadagno di vita in anni attesi nei decenni pensate c'era una speranza di vita nel 2010 di 81,7 anni è balzata la 83,2 anni nel 2019 nel 2019 nel 2020 scende a 82,3 anni tanto per capire i danni del covid Mirta buongiorno buongiorno allora ripartiamo dalla foto di Mattarella di Eli che è un po' un simbo del paese in cui stiamo vivendo siamo tutti aggrappati a questa foto di normalità e poi raccontiamo ogni giorno storie di grande anormalità con noi Antonio Pesenti capo l'animazione della Lombardia la situazione purtroppo è di nuovo molto molto tesa Peter Gomez Alessandra Ghisleri Claudio Borghi Maria Teresa Meri abbiamo una storia su un link di Furbetti che trovavano il modo di entrare nelle prenotazioni e ancora siamo collegati con Bergamo collegati con Roma dove le partite IVA sono in rivolta seguiremo quello che accade a Palazzo Chigi con Draghi che riapre alla concertazione ancora Matteo Bassetti Maurizio Molinari Daniela Santanchè Gennaro Migliore Giovanni Dotti Presidente Alliguria uno dei pochi aperturisti rimasti e insomma moltissimo da raccontarvi anche stamattina sono qui grazie Mirta io ringrazio Fabio Rampelli ringrazio Walter Verini Davide Giacalone vi do appuntamento come sempre a domani 9.40 sulla 7 e vi lascio alla leghe tira grazie grazie